La politica locale, le associazioni e il personale sanitario si muovono verso un'unica direzione, salvare l'ospedale di Ariano. Contro ogni ipotesi di ridimensionamento del Sant'Ottone Frangipane e dei servizi sanitari territoriali, le forze politiche di minoranza e maggioranza del Consiglio Comunale hanno stilato un documento da inviare ai sindaci del comprensorio per adottarlo nelle varie assemblee. Questa mattina invece è stata avviata l'organizzazione di un incontro per il prossimo mercoledì 7 novembre nell'Aula Magna dell'ospedale. Lo annuncia il Comitato di tutela del territorio, promotore fra l'altro della petizione che ha ottenuto ben 13.000 firme fra Ariano e tutto il circondario. L'obiettivo è avere un confronto con lo stesso assessore regionale a Ramo, Raffaele Calabrò, il prefetto di Avellino e il direttore generale dell'ASL, Sergio Florio. C'è un vero e proprio allarme e la situazione in cui versa il frangipane è oramai resa pubblica. Interi reparti che si reggono sulla volontà di pochi branche in sofferenza senza medici e infermieri. Io sono un operatore della sanità da tanti anni, lavoro in ospedale diciamo che noi soffriamo molto di questa carenza di personale che poi voglio dire rappresenta per noi in questo momento forse l'emergenza più grossa perché avendo un personale specialmente il parasanitario che è quello che lavora tra virgolette molto di più e che quindi è in sofferenza come il nostro, come noi, come personale sanitario diciamo rappresenta per noi forse l'obiettivo principale. Sicuramente ci sarebbe da discutere su questa situazione per quanto riguarda l'emodinamica non invasiva da parte della cardiologia che per noi sicuramente è una difficoltà enorme cioè per chi lavora nella rete dell'emergenza in generale nell'ospedale certo rappresentava una tranquillità per noi operatori in quanto operatori della sanità ma sicuramente per i cittadini. Certo non abbiamo accolto con grande gioia questa notizia con la speranza che il direttore tra virgolette cambi idea o quantomeno il legislatore in merito si esprima in maniera diversa. Certamente c'è anche il discorso della dialisi da dover affrontare certamente c'è il discorso delle branche chirurgiche che vanno sicuramente potenziate e ancora una volta insomma si capisce come avendo un personale decurtato considerato che in alcune reparti in alcuni reparti addirittura si lavora con un personale convenzionato cioè medici che vengono dall'esterno e vengono pagati per venire a reintegrare delle ore che noi non riusciamo a coprire naturalmente certo non è una bella cosa insomma. Sono anni però che tutto ciò viene portato all'attenzione dalle associazioni come il Tribunale del Malato e Cittadinanza Attiva. Renzo Grasso parla di un disegno quasi scientifico messo in essere dai vari direttori generali per depotenziare progressivamente la struttura del Tricolle. Il depotenziamento dell'ospedale di Ariano viene da molto lontano viene dai vari direttori generali che in un modo e non l'altro hanno depotenziato l'ospedale e primo fra tutti quel direttore generale di Napoli che ha portato medici infermieri amministrativi napoletani che dopo sei mesi sono spariti hanno riempito la nostra pianta organica e quando c'è stato il blocco delle assunzioni non abbiamo più potuto prendere nuovi medici e nuovo personale. E poi c'è stato via via il furto dell'anatomia patologica portato ad Avellino capirete bene che l'anatomia patologica è un esame importante l'esame istologico dal pap test fino all'esame della mammella fino all'esame noi aspettiamo 45 50 giorni per avere una risposta è una cosa indecente in un paese civile e una chirurgia che non può operare con un'estemporanea significa rioperare di nuovo il paziente allora il paziente se ne va direttamente verso un'altra struttura. Dottore l'allarmismo che si sta creando giustamente qui nella città si scontra però con le rassicurazioni che più volte il direttore generale Florio ha esternato anche la nostra televisione. Allora noi vogliamo come ha detto il dottore Merito Pocanzi avere la certezza che il nostro resta un ospedale di urgenza ed emergenza e che abbia personale a disposizione per fare per svolgere il compito dato dalla regione Campania. Per cui non è una guerra l'ho detto prima vorrei che ci sedessimo intorno a un tavolo e potremmo parlare tranquillamente da ambo le parti per definire meglio questa situazione e né inasprire troppo gli animi però siamo giunti a un punto ultimo di eh saturazione. Dottore Grass lei ha annunciato le sue dimissioni dal Tribunale del Malato come mai? Le mie dimissioni eh riguardo al Tribunale del Malato è per un fatto personale legato ad una controversia personale con l'ASL per cui non posso essere serenamente alla guida di un importante eh associazionismo di volontariato e potendo pensare che le mie parole le mie azioni vengono strumentalizzate in questo senso. Per cui ho dato la delega al dottore Merito che appartiene a cittadinanza attiva.